Inizia il mese dell'anno più difficile per quanto riguarda Bitcoin, cioè il mese di settembre che di solito è un mese debole, ma è anche il mese che poi conclude quello che sono i, che il Q3 di Bitcoin, anche il Q3 diciamo non è mai stato un trimestre molto forte e vediamo se quest'anno, questa volta potrebbe essere un'eccezione. Andiamo ad analizzare un po' di tabellone di dati e grafici, ovviamente quello mensile per comprendere cosa è successo nel mese di agosto, alcune cose che Bitcoin ha delineato in maniera molto importante e un atteggiamento tipico che avviene con un pattern di analisi tecnica proprio nei mesi successivi a quello che è stato, che è avvenuto proprio ad agosto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta per questa ripresa della settimana con Bitcoin che la moneta dice sale ma in realtà non sta facendo nulla, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Da un sacco di tempo andiamo a vedere un po' la questione legata anche poi a un po' la ciclicità, anche se oggi facciamo soltanto un accenno ragazzi alla questione ciclica perché volevo vedere più che altro la candela di natura mensile che si è andata a creare e questa struttura che si sta delineando. Bene, allora iniziamo come sempre il Bitcoin Monday con la questione dell'analisi dei dati di natura macro che dovremmo andare a considerare un po' quelli che sono i dati macro di questa settimana, quelli più importanti che sono forse e solo ed esclusivamente quelli dell'ISM, il non manifatturiero e anche questo qui il manifatturiero che sono quelli di martedì 3 ma quello è più importante quello di giovedì. In realtà sono degli indicatori semplici che ragionano sulla presenza o meno di un rischio recessione, di solito sotto il livello di 50 indica un peggioramento della questione economica sopra e invece siamo ancora in fase positiva. In sostanza non credo che ci sia un grande cambiamento, una grande volatilità anche perché qui siamo intorno a 59 come previsto quindi difficilmente cambierà qualcosa. Venerdì invece abbiamo il tasso di disoccupazione che è previsto in leggera addirittura diminuzione per quanto riguarda gli Stati Uniti quindi stabile sostanzialmente un peggioramento del tasso di disoccupazione intorno magari al 4-5. Dunque questo potrebbe un po' smussare e creare un po' di volatilità ma se resterà quello attuale cioè quello previsto intorno al 4-2-4-3% non prevedo nessuna tipologia di volatilità a parte quelle per l'uscita delle news, quei sali e scendi insomma di poco conto. La settimana più importante dovrà essere poi la successiva cioè quella legata all'arrivo dell'eventuale primo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve perché c'è fra 16 giorni il FONC e quindi il 18 di settembre sarà comunicato il taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale quasi sicuramente al 70% e poi addirittura qualcuno pensa anche un taglio maggiore quindi mancano ancora due settimane per quello che è il momento più importante anche se ancora una volta ragazzi queste news sono totalmente scontate dai mercati quindi difficilmente ci saranno oscillazioni importanti perché in realtà ci sono solo nei momenti in cui c'è stato un disequilibrio fra le attese degli operatori di borsa e quelli che sono poi i dati reali. Nel momento in cui questo disequilibrio non c'è ovviamente si verifica una oscillazione, una volatilità all'uscita delle news ma è roba di poco conto e non ha nessun impatto negli atteggiamenti, nei trend dei mercati di medio-lungo periodo. Andiamo a vedere la tabella per quanto riguarda il mese di settembre. Mese di settembre che ha una media negativa addirittura meno 4,48 dal 2013 considerando che Bitcoin anche negli anni scorsi era salito tantissimo ma non è soltanto la media negativa che indica che è l'unico praticamente mese che in realtà c'è anche giugno che è leggermente negativo ma quasi pochissimo ma è il mese più negativo di tutti senza ombre di dubbio è proprio settembre. Tra le altre cose il dato più importante è che soltanto tre anni settembre è stato un mese positivo per Bitcoin e anche in quei tre anni la positività è stata di poco conto. Perché abbiamo avuto comunque delle strutture di rialzo intorno al 2%, 6% nel 2016 che era un anno di forte boom e 3,91% l'anno scorso ancora un anno di forte boom. Gli altri anni sono stati tutti negativi anche con dei ribassi un po' più consistenti in alcuni cicli, non quelli dei bear market ma cicli di natura sporadica che sono quelli 2014-2019 per quanto riguarda i momenti più vicini. Ma sostanzialmente è come se si andasse a verificare un mese di natura negativa intorno al 5% più o meno in media appunto come è scritto qui 4-5% questo il dato. Ora, considerando alcune cose, l'anno scorso il mese di settembre è stato positivo, quindi la probabilità che sarà positiva anche quest'anno magari si riduce visto che settembre è come serie storica un mese negativo. C'è da affermare un concetto di base, di fondo, queste analisi delle serie storiche sono analisi di dati passati, quindi non è un calcolo della probabilità come un calcolo preciso di probabilità. Possiamo calcolare il fatto che avvenga un mese verde in base ad una serie storica, ma parliamo sempre di serie storiche, non è che abbiamo un dato scientifico puro, quindi parliamo sempre di aleatorietà. Ovviamente c'è una ripetitività degli atteggiamenti e anche una logica dal fatto che settembre sia un mese negativo per Bitcoin, perché di solito Bitcoin ha un fortissimo Q4, cioè l'ultimo trimestre dell'anno per Bitcoin è molto forte. Questo significa anche che il trimestre precedente di solito è debole, perché appunto crea le basi, le fondamenta per un trend poi più pronunciato nel Q4. Infatti anche quest'anno il Q3 è debole anche in questo caso e sembra molto più simile per esempio a quello degli anni passati. È vero che in media il Q3 è comunque positivo, ma guardate la differenza abnorme rispetto agli altri trimestri di Bitcoin, perché gli altri trimestri di Bitcoin sono notevolmente positivi, mentre il Q3 è positivo di pochissimo, ciò significa che al di là di questo anno, se noi togliamo quest'anno è il 2017 che ha fatto il super boom nel Q3 dell'80%, il resto si compensa ed è zero. Quindi sostanzialmente nel terzo trimestre l'andamento di Bitcoin è laterale negativo, questo è concettualmente. Deriva anche da una questione molto semplice, la famosa strategia selling may and go away che vi ho spiegato, di cui trovate anche tra le altre cose un video, vediamo se riesco a metterlo sulla mia testa ragazzi, andatevi a vedere anche perché faremo un aggiornamento di quella strategia che è veramente interessante da andare a controllare perché in questo momento sta vincendo nuovamente quella strategia potentissima. Detto questo, anche il Q3 di quest'anno è negativo, quindi sembrerebbe che il mese di settembre possa avere una conferma di questo negatività. Attenzione però, perché a meno di disastri, insomma qui parliamo di disastri, cioè a meno di andare a spingere molto verso il basso, cioè fare un meno 20 in un anno del genere, che però di solito non è adatto perché più l'anno precedente, che era quello che si chiama un Q3 un po' più ribassista, infatti ha fatto meno 11. Sostanzialmente questo Q3 dovrebbe essere un Q3 un po' spento, ma non così negativo, ecco tutto qui, perché in sostanza dovrebbe accompagnare poi alla fase finale del Burran. Ora parliamo, vi ripeto, sempre di serie storica e con tutto ciò che ne consegue, non mi scrivete i soliti messaggi da dementi cortesemente sul discorso di previsione del futuro, eccetera, non è quello, non stiamo prevedendo quello ragazzi, stiamo ragionando su dati per avere delle logiche operative e in questo caso la logica più coerente a questi dati è quello di aspettarci un mese di settembre che è deboluccio ma non catastrofico, va bene? Questo è il concetto. Perciò magari una oscillazione tra up and down che rimane in barra di congestione all'interno della candela precedente, adesso vediamo il grafico che è la cosa più importante, mi spiego anche quelle che sono un po' le mie idee, ci può stare alla grande, ma non fa una piega diciamo questa fase di debolezza. Poi in realtà il vero, la vera aspettativa forte dovremmo averla proprio nei mesi successivi, cioè ottobre in particolar modo un mese tra i più potenti di bitcoin, ma soprattutto ottobre perché novembre sembra molto forte, ma in realtà è solo dovuto a dei dati sporadici che innalzano moltissimo la media, mentre invece ottobre è un mese molto forte, c'è anche da dire che viene da 5 ottobri positivi bitcoin, compresi quelli del bear market, anche il bear market 2022 è stato ottobre positivo. Ma ne parliamo nel prossimo mese, quindi l'attesa è di un settembre laterale ripassista, ma non troppo, quindi che faccia magari oscillazione all'interno del mese come alla fine ha fatto il mese di agosto, ampie oscillazioni, ma poi tra la opening e la close una leggera fase ripassista, vedete? Quindi ampie oscillazioni sono state molto ampie, ma poi tra open e close del mese l'oscillazione è stata veramente bassa, quindi meno 24% l'oscillazione tra massimo e minimo, ovviamente ragazzi la calcoliamo tra massimo e minimo, perché se io la faccio tra minimo e massimo è molto più alta per questioni statistica, però si fa tra massimo e minimo perché stiamo parlando di una candela rossa e quindi è giusto calcolarla in questo modo. Allora, quali sono le aspettative di questo mese di settembre? Una candela rossa o meno? Allora, ci sono due variabili. Il mese di settembre è iniziato basso, perché se vi ricordate, io questo ne avevo accennato, un agosto molto pronunciato con un recupero che era avvenuto addirittura fino a 64.000 dollari, non era una cosa positiva addirittura, ma negativa, e il mercato ha preferito ritracciare già una parte della candela di agosto per andarsi a riposizionare sul livello più basso, ma tra le altre cose è il livello di chiusura mensile più basso degli ultimi sei mesi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Infatti ha fatto un minimo in chiusura mensile, e questo è anche indicativo della fase ciclica, che è palesemente una fase di chiusura di un ciclo annuale di Bitcoin. Vedremo appunto se questa chiusura può essere stata fatta in parte, oppure abbiamo necessità di attendere proprio il mese di settembre per vedere una close più adatta. ma in linea di massima questa shadow è veramente molto pronunciata, perciò potrebbe anche essere indicativa della chiusura del ciclo annuale. Se così fosse, in effetti, il mese di settembre potrebbe essere addirittura verde come candela, e quindi fare magari un allato, diciamo, ribassista, e poi recuperare in fase finale e chiudere in leggera positività, perché poi non cambia il concetto dell'essere un mese di congestione o laterale ribassista o leggermente riazzista, non è che cambi granché alla fine dei giochi. Allora, la questione invece dal pattern di natura tecnica più importante è questa, la shadow pronunciatissima del mese di agosto, che solitamente viene recuperata da parte del mercato almeno in parte, cioè questa shadow è teoricamente sempre ripresa dal mese successivo. In effetti, la giornata di ieri, domenica e di oggi, ha già ripreso un pezzettino di questa shadow, un 25% oserei dire, è stato recuperato più o meno, perché se andiamo a calcolare un po' una shadow creata in questo modo, possiamo andare a verificare che è già una parte, che è più o meno un quarto, forse non proprio un quarto preciso, doveva essere un po' più basso, però è stata già ritracciata. Ora, concettualmente, una discesa di Bitcoin che possa arrivare anche di nuovo intorno a questa zona di pricing, cioè intorno alla media mobile a 12 periodi, quella dell'annuale, e che quindi va ad oscillarmi tra 55% e l'attuale minimo a 57%, non lo fa una piega, anche in questo contesto, all'interno del mese. Cioè il fatto che a settembre potremmo assistere, diciamo, a un nuovo tentativo di affondare in questa zona, non fa una piega, neanche rende il mese di settembre così pericoloso, anzi, potrei dire, forse sarebbe più normale possibile. Però, 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 questo, diciamo, per chi è magari più positivo, già il ribasso che ha toccato a 57.000 dollari questa mattina, stanotte, a dire la verità, è sufficiente a creare questo discorso. È il minimo indispensabile, con tutto quello che ne deriva, però è sufficiente. Cioè, è come dire, io il mio l'ho fatto, ecco, proprio senza sforzo, però è sufficiente. Quindi, essendo che siamo al 2 di settembre, mi viene un po' strano da pensare che l'intero mese di settembre non possa tentare nuovamente di fare nuovi minimi, perché, ragazzi, mancano 28 giorni, e questi 28 giorni, poi, a spenderli totalmente verso i massimi, vuol dire che a questo punto dobbiamo ritornare quantomeno in zona 64, 65, per poi magari ritracciare dopo, cioè fare appunto quella congestione che serve, ma se non andiamo più a fare nuovi minimi per i mesi di settembre, partendo dal 2, è, insomma, un segnale estremamente rialzista. Ecco, questo è giusto per intenderci. Altrimenti, il tentativo di Bitcoin di scendere sotto i 57 potrebbe essere ancora nell'aria, anche perché il concetto principale è anche di natura ciclica, perché a livello ciclico teoricamente la ripartenza di un nuovo trend può avvenire solo e unicamente alla chiusura del mensile, che quindi dovremmo considerare chiuso a 28 giorni. 28 è un po' poco per la chiusura del ciclo mensile, quindi ancora una volta, vedete, ci sono dei dati che sono un po' contrastanti. La situazione è estremamente difficile, ragazzi. Gli ultimi giorni sono stati complessi anche a livello operativo i miei bot hanno avuto segnali negativi, quello più veloce è stato negativo, quello più lento no, perché l'abbiamo gestito in maniera positiva noi, ma in realtà è comunque anche lì una fase molto negativa a prescindere. In linea di massima queste barre di congestione laterali non sono barre in cui chi segue il trend e chi fa operazioni di medio-lungo periodo riesce a trovare profittabilità, perché i trend si esauriscono dopo pochi giorni e questo non rende possibile un'operatività di medio-lungo periodo, rende possibile l'operatività di breve periodo, solo ed esclusivamente però all'interno di movimenti molto ristretti, quindi veramente candele da 5 minuti, ragazzi, parliamo di trader puri, quindi non questione di investimento gestito con le tecniche di trading. Quindi qui per avere un mese che ha fatto già il suo minimo in pratica dobbiamo ragionare su una chiusura del mensile di bitcoin ciclicamente già avvenuta a 28 giorni e prematura oggi è l'unica candela verde aspetteremo domani dopodomani per avere maggiori informazioni. La probabilità più alta secondo me è quella del tentativo successivo di infrangere questi minimi ma all'interno di questa zona a livello mensile potrebbe in effetti trovarsi la conclusione proprio di questo movimento ribassista che a questo punto non toccherebbe non avrebbe più spazio di toccare i minimi di agosto. Cosa succede se scendiamo ai minimi di agosto? Non ci voglio pensare perché la configurazione del breakout di queste due medie mobili a livello mensile è estremamente negativa e ribadisco che non è mai accaduto nella storia di bitcoin che queste due medie la media inferiore venisse rotta e quelle due medie si invertissero prima dell'inizio di un bear market questo sarebbe la prima volta che se succede una cosa del genere ed estremamente negativa quindi teniamone conto di questo ma probabile che il mese di agosto abbia dato un minimo importante e anche più soddisfacente magari ecco un'analisi di doppio minimo di tentativo di scendere in queste zone e magari anche una chiusura al di sotto del mese di agosto come chiusura ci può stare ma il breakout dei 50.000 sarebbe un segnale fortemente negativo per bitcoin soprattutto se poi non viene recuperato immediatamente quindi lì starei molto attento bene ragazzi allora per il mese di settembre avete già tutti i dati di cui si necessita per operare e anche per avere un inquadro generale poi andremo a spulciare il dettaglio sempre nei prossimi video e sempre qui sul canale iscrivetemi quindi se ancora non avete fatto ma soprattutto vai coi pollicioni ciao a tutti buon lunedì